3500 mi piace su questo video entro la mezzanotte e torna lo smadonnatore seriale online su FIFA 21 detto questo vai col video me l'avete chiesto a gran voce anzi a grandissima voce e quindi ho deciso di tornare con ignoranza su FIFA 21 Ultimate Team e oggi ce facciamo lo spacchettamento de quelli esagerati non uscirà sicuramente in caso ciao e bella a tutti da me mi raccomando iscrivetevi a questo canale attivate la campanella ma fate la stessa cosa se non siete ancora iscritti anche sul mio primo canale YouTube ma prima di continuare se amate il calcio come me e sono sicuro che lo amate dovete assolutamente passare sul link in descrizione per scaricare la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio ovviamente ragazzi sto parlando di OneFootball ve lo ricordo l'applicazione è completamente gratuita per qualsiasi piattaforma iOS, Android e chi più ne ha più ne metta fidatevi di me e scaricatela perché sono sicuro che non ve ne pentirete detto questo siete pronti perché ho accumulato un bel po' di pacchettini haaaah tiè guarda che roba negozio negozio ragazzi miei siamo carichi come pochi pacchetto oro premium, oro premium, oro premium, maxi maxi, maxi poi i pacchetti consumabili david back insomma un po' di cazzatine qua e là allora facciamo una cosa io comincerei innanzitutto pacchetto divisa stanno là vabbè li apriamo vediamo quello che che c'è mi sta risalendo il porpettone come al solito SK gaming la roba dei nonni e dei zii va bene così con Mirinkovic Savic perché ce l'ho in squadra e vabbè vediamo se ne fosse una che mi piace mamma mia tutti i colori brutti tranne questo un po' coloraticcio ma vabbè niente andiamo avanti ho bisogno di spacchettare le cose importanti ah ma hanno regalato ma penso l'abbiano regalato a tutti non è che io so so il caso più unico che raro e non è tanto forte in realtà perché avevo visto l'overall è una cosa spisellina un po' non dico moscia comunque pur sempre una leggenda ex Real Madrid ma non solo stiamo parlando di David Backham 86 su PS più forte eh vi devo dire la verità poi perché è pelato là c'ha i capelli e là è pelato che sta a fare sta a pescare va bene così fa boschi passaggi 90 è ok per il resto secondo me Beckham era più forte ma va bene diciamo che evidentemente l'hanno regalato a tutti non volevano fare una cosa spisellante altrimenti sarebbe stato veramente ok consumabili tanto non c'è sta niente e poi partono i pacchetti quelli veri vabbè tutta roba finalizzatore sentinella patacchella va bene così adesso cominciamo seriamente vediamo se lo scu nove pacchetti regà è tanta roba giocatore raro valutazione 75 vai subito tanto non c'è sta niente probabilmente sono sicuro al 200% uscirà in 75 una pippa io su fifa sono stato tutto tranne che sculato in vita mia italiano difensore centrale del mio romagnoli romagnoli ebbè è buono 83 che ho butti via faccio pure la serie A io è anche 70 di velocità quindi in realtà diciamo che non è andata poi così male poteva andare peggio di conseguenza me lo prendo molto molto volentieri mi ricordo se consuma si consumabile come si dice non scambia consumabile non scambiabile va bene oro premium oro premium maxi premium maxi raro preno taz pacchetto oro raro preno taz e che cazzo aggiungere vediamo vediamo non si sa mai della vita se volete uno spacchettamento di quelli selvaggi su pesce e poi l'infamata buon fabio tanto sti video non li vede eh è andaro no no vabbè e vabbè comunque un altro 83 ragazzi miei un altro 83 la fortuna se volete uno spacchettamento ininfamata quindi doppio spacchettamento una maria di inghiacce su questo video va bene vabbè 83 80 buono continuo così tutti 83 a me va bene che andreva 78 ce faccio niente ombre cacciatore wow un po' di robetta l'abbiamo l'abbiamo presa però a me piacerebbe fare una sculata di quelle pazzesche su fifa proprio una pesca la roba pesante ma che più pesante non se può non ci sono mai riuscito c'è qualche sculatina qua e là ma tipo un messi un ronaldo roba proprio tosta proprio io e ste cose 0% brasiliano es del Bayern Monaco oh e Douglas Costa e Douglas ma che è successo ma si è buggato fifa 83 83 84 Douglas Costa pure perché io non faccio a Bundes ma sarebbe veramente buono forse anche vendibile forse qualche soldino ce lo si fa ce lo ce lo si fa oh nanna Pau Torres guarigione e cose sta cosa non si può dire perché poi la gente potrebbe capire male ormai siamo proprio nel pacchetto oro premium oro premium oro premium maxi 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 allora partiamo da oro premium damme qualcosa sì per carità finora non è che mi è andata male ma vorrei qualcosa di più tosto dai che me oh oh ma che c***o è ma va a te zarate 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 karate questo giocava pure lazio va bene così ma che va bene così pensavo chissà che fosse pensavo che era serio kalinic capirai proprio per chiudere il pacchetto in bellezza che è sta roba pare una parolaccia pare pare un insulto sì gli achini sta a posto hanno cacciato da fiorentina sta a vedere e muovio io no però me lo potrei prendere perché io c'ho un allenatore proprio bronzino schifino ma che toro premium ancora dai mi si ha fatto credere pensavo chissà che fosse dico mo chissà che è uscito zara zara te karate kid aspetta no è una pippa è una pippa immonda no è zagnolo è zagnolo 76 io ma stavo a scherzare uno dei miei giocatori preferiti della roma ovviamente io per chi non lo sapete se vede ecco tifo roma quindi roma fc scusate sono contentissimo faccio la serie a quasi quasi ce lo schiappo anche se è 76 potrei dove è nicola nicola regista le cose berami a berami scarta oggetti via non ci faccio assolutamente niente quanto può valere berami 500 pacchetto oro premium ci riproviamo ancora una volta perché io non mi arrendo e sono sicuro che potrebbe arrivare un'altra sculatina spisellina no niente un'altra pippa chi è è bernard bernardone bene così 84 84 ce se fa una lira secondo me vediamo nel pacchetto magari te tira fuori qualcosa di pesante anche se socrates gnogne fatitte rim addirittura abbiamo un motore che non è male a posto possiamo andare a a 1d 3 premium maxi mi tiri fuori qualcosa di pesante mi serve qualcosa di pesante per cortesia tiramelo fuori e non pensate a ma oh tedesco portiere vai al monaco però mi sa che buono è 85 vabbè secondo me qualcosa ci se fa secondo me mamma mia già stavo a pensare a noi qualcosa con l'eno ci se fa ma se sono impazziti mai successo che in una spacchettata 2.83 in 84 in 85 sono completamente impazzati diventare peggio di pesce tra un po' regalano i top fanno la gara a chi li regala di più ma quando mai ha te pur può essere buono pezzella può essere buono no pezzella 54 di velocità preta non gioca più in italia e per il resto 24 oggettini le oggettistiche le cose guanto eh guanto mi fa pensare molto a male chiedo vegna e chiedo perdono non so se vabbè andiamo col guanto o senza andiamo a pacchettoro premium maxi è il penultimo pacchetto devo dire pensavo molto molto peggio e fino mi ha detto troppo bene quindi più di così sicuramente è calda vai capi eh mi riviene in mente una scena famosa di un allenatore da Fiorentina volare uno cose che proprio noi umani non possiamo immaginare no possiamo immaginare perché l'abbiamo visto una scena pietosa raga caicedo no questo scarto scarto simeone ambriz bene diciamo che dai tutto ultimo pacchetto siete pronti non credo che uscirà il neymar della situazione il messi della situazione il kilian bappé della situazione non ho speso una lira fino a mo aspetta eh sì vabbè si vabbè giosè caffè giosè prova il gusto e lo senti con me caffè giosè caffè giosè mo magari esce qualcosa parò tutti da Lazio Conti questo è Stanciu Pellegrini ragazzi è il padre non è non è Lorenzo va bene così sono fratelli lui e Luca ovviamente vinaccia va bene sentinella qualche pacchetto go we willy willy lo vanno qua benissimo scarta non ce ne può frega di meno non mi pare che ci siano altri pacchetti no sono finiti non shop perché non ho una lira quindi vi chiedo 3500 mi piace su questo video entro mezzanotte torna lo smadonatore seriale online su fifa 21 mi raccomando massimo supporto mi piace commentate condividete iscrivete entrambi canali i profili socialista cacopi sotto descrizione i contenuti consigli ci vediamo alla prossima con un nuovo video dai non è nata male me ne vado ciao ciao